Lungo la frontiera americana diventò una leggenda. Tu non hai paura di morire? Un uomo senza libertà. E' morto comunque. Lui rischiò la vita e tutto quello che amava per proteggere la sua nuova famiglia e quella terra che lui chiamava casa. E' venuto a dichiarare guerra al progresso? Franco Nero è Jonathan degli Orsi. Un epico viaggio nel cuore degli uomini. Grazie.